questa indagine denota un aumento di livello delle organizzazioni camorristiche in particolare del gruppo dei Casalesi con il ricorso a forme di innovazione e quindi anche la ricerca di professionalità a livello informatico per poter gestire questo ampio sistema di scommesse clandestine online con introiti notevoli, rilevanti e nello stesso tempo con rischi minori rispetto alle tradizionali attività dei clan L'organizzazione che portava avanti le scommesse sportive era un'organizzazione che contigua alla criminalità organizzata camorristica e alcuni esponenti in questo caso del clan dei Casalesi abbiamo operato nei confronti del clan Venosa di San Gipeno d'Aversa e anche nei confronti di alcuni esponenti del clan Mallardo in particolare il clan Mallardo raccoglieva sotto forma di tangente alcuni dei proventi che le ricevitorie per il solfatto che operavano sul territorio di competenza del clan raccoglievano e quindi la ricerca di un'organizzazione che si è 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 un'organizzazione che si